Ben ritrovati da MeteoInCalabria.it. Nelle prossime ore assisteremo ad un moderato peggioramento del tempo a causa dell'arrivo di una debole perturbazione di origine nordatlantica. La prospettiva meteo della settimana comunque sarà dettata da una serie di ondulazioni in seno al flusso occidentale atlantico con perturbazioni a ripetizione intervallate da pause anticicloniche. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà sulla nostra regione. Oggi nuvoloso ovunque con possibili piogge tra deboli e moderate su Catanzarese e Crotonese altrove scarsa possibilità di fenomeni se non locali deboli piovaschi sparsi. Nel corso della giornata ampie schierite si faranno spazio da ovest, le temperature saranno in aumento nei valori minimi in lieve diminuzione in quelli massimi. Domani parziali velature copriranno i cieli della nostra regione con tendenza dal primo pomeriggio ad aumento della nuvolosità a partire dai versanti tirrenici del Cosentino. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi. Andiamo a vedere ora invece come si comporteranno mari e venti. Oggi venti moderati da quadranti occidentali sul Tirreno con mari molto mossi, venti moderati meridionali sullo Ionio con mari tramosse molto mossi. Domani condizioni iniziali di venti calmi o debole di direzione variabile. Nel corso della giornata disposizione dei venti da libeccio su Tirreno e Basso Ionio con mari mossi, mosso anche il settore ionico centro-settentrionale per venti da sud. E per ulteriori dettagli vi ricordo di consultare il nostro sito internet www.meteoincalabria.it. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per la cortesia attenzione e appuntamento a domani.